ben trovati oggi mi vado a mostrare come sostituire le maglie iniziali con un punto diverso da quello che siamo abituati a lavorare approfitto di una mia lavorazione quindi vado ad effettuare il cerchio magico e mi aggancio allo stesso con un punto catenella di solito siamo abituati a sostituire le prime maglie sia del giro che della riga con delle catenelle a seconda del punto che stiamo lavorando io per la mia lavorazione devo fare dei punti alti quindi siamo soliti fare la prima maglia con tre catenelle 1 2 e 3 e queste sappiamo che vanno a sostituire sempre il primo punto della nostra lavorazione io invece vado a fare in quest'altro modo mi sono agganciata al mio anello magico quindi vado ad allungare leggermente la mia asola portandola all'altezza della maglia alta faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo lo riporto sul davanti e chiudo la mia maglia alta e in questo modo ho sostituito il primo punto della lavorazione continuo carico il filo rientro nell'anello magico e vado a lavorare il mio secondo punto alto e continuo lavorando i punti che mi occorrono per il primo giro della mia lavorazione ho terminato il giro lavorando i punti necessari che mi occorrono vado a stringere leggermente il mio anello magico e andiamo a chiudere il giro il giro lo chiudiamo entrando nelle due asoline superiori del primo punto che abbiamo lavorato a inizio giro entro e chiudo con un punto bassissimo il primo punto in questo caso la maglia alta la sostituiamo come come vi ho fatto vedere prima vado ad allungare leggermente la mia solina portandola all'altezza della maglia alta faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo lo riporto sul davanti sempre tenendo ferme le due asoline sull'uncinetto carico e vado a chiudere al termine del giro chiuderemo come vi ho fatto vedere adesso e ripartiremo allo stesso modo con la maglia allungata ho terminato anche questo giro vi faccio rivedere la chiusura del giro e l'inizio del giro successivo poi mi fermo perché io ho terminato di lavorare la base per il mio progetto un progetto che poi vi metterò sul canale questo era soltanto un video dimostrativo su come andare a sostituire la prima maglia alta sia nel nelle lavorazioni circolari ma è un sistema che si può usare benissimo anche nelle lavorazioni lineari e vedrete come mano mano che il vostro lavoro procede la maglia alta è praticamente invisibile quindi vado a chiudere il mio giro prendendo le due asoline del primo punto iniziale vado ad estrarre e chiudo con un punto catenella il giro successivo ripartiamo allungando la nostra solina facciamo una torsione verso il dietro andiamo a pescare il filo lo portiamo sul davanti vedete che io ho sempre ferma la solina con il dito sull'uncinetto vado a fermare le due asoline adesso carico il filo e chiudo la mia maglia alta e procedo per la mia lavorazione vi mostro anche come sostituire la maglia alta nelle lavorazioni lineari andiamo ad avviare un tot di catenelle sappiamo che la prima maglia la sostituiamo di solito sempre con 3 catenelle quindi se dovessi andare a lavorare la mia maglia alta dovrei lavorarla nella quarta catenella a partire dall'uncinetto invece noi lavorate le nostre catenelle iniziali allunghiamo la nostra asolina facciamo la solita torsione verso il dietro andiamo a pescare il filo lo riportiamo sul davanti tenendo ferme le asoline sull'uncinetto peschiamo il filo e chiudiamo il nostro punto alto carichiamo il filo vedete che questa è la base dalla quale siamo partiti per allungare la nostra solina il secondo punto noi lo andiamo a lavorare nella catenella successiva quindi entro estraggo e lavoro il mio secondo punto alto e continuo lavorando i miei punti su ogni catenella disponibile di partenza termino la riga e vi faccio vedere il giro di ritorno terminato di lavorare la nostra prima riga voltiamo il lavoro e ripartiamo sostituendo il primo punto con la maglia allungata allungo la mia solina faccio una torsione verso il dietro vado a pescare il filo lo porto sul davanti tenendo ferme le due asoline sull'uncinetto pesco di nuovo il filo e vado a chiudere carico il filo entro nel secondo punto della riga e continuo la mia lavorazione fate un poco di pratica perché anche a me è capitato che le prime volte il punto mi venisse alquanto lento ma con un poco di esercizio vedrete che ci prenderete la mano e il punto sarà perfetto vedete che non c'è differenza tra la maglia alta normale e il punto allungato che andiamo ad usare per sostituirla ho lavorato ancora un giro vi faccio vedere nel giro di ritorno come andare a lavorare sulla maglia allungata iniziale dobbiamo entrare al di sopra del nodino e prendiamo tutte e due le asoline quindi carico il filo e vado ad entrare nelle due asoline sopra il questo nodino piccolino vedete questo sopra questo nodino estraggo e vado a chiudere il mio punto alto punto allungato nelle lavorazioni circolari che va a sostituire il primo punto e quindi rende la chiusura invisibile punto allungato nelle lavorazioni lineari che va a sostituire il primo punto di lavorazione spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento che vi sono stata un pochino utile se non l'avete fatto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video